Bella a tutti dal danno ragazzi, benvenuti a questo vlog, purtroppo come avete letto dal titolo è l'ultimo vlog che faccio perché purtroppo penso sia giunto il momento di prendere una decisione drastica, importante, però inevitabile mi dispiace molto, mi rammarica molto dover prendere questa scelta ma ormai è fatta i motivi per cui ho deciso di chiudere questo canale fondamentalmente non sono molti, è uno solo stavo vedendo le statistiche su google analytics e ho visto che nonostante i circa 700 mi piace ci sono una cinquantina di non mi piace ed essendo io una persona che punta alla perfezione purtroppo non posso doverare uno smacco simile e quindi ho deciso di chiudere il canale sono serio ragazzi non sto scherzando, voi vedete sempre che cazzeggio ma quando sto parlando in questo momento sto parlando seriamente, è stato bello finché ha durato, è stato un bel sogno però una cosa la fai bene che piace a tutti, al 100% delle persone o se c'è una sola a cui non piaci secondo me è inutile che vai avanti, 100 su 100 ignorante non è solo un detto, 100 su 100 deve essere qualsiasi cosa, deve essere perfetto e sinceramente a questo punto devo dire che non sono perfetto e quindi io non merito youtube, youtube merita gente più importante, gente che è amata, ha la follia e che piace a tutti e con questo io vi saluto, spero che vi sia piaciuto, il canale purtroppo lo lascio aperto ma non mi vedrete mai più, addio volevate eh maledetti bastardi, guardalo lui lì all'altra parte dello schermo, stava lì, ahhh, uno de meno, è certo, è certo, è certo, lui era lì pronto eh, tanto per cominciare che è sto silenzio? non è che è morto qualcuno, al massimo si chiudeva il canale, però un po' di vita ci vuole si però sta musica ha rotto le palle ragazzi, non è la stessa, non c'ho avuto niente una perfetto dai non mi piace a parte ragazzi che sto cazzato, non me ne frega un cazzo, mettetene quanti vi ne pare anzi più ne mettete e meglio è, perché così il video sale del ranking su, 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 su le mani, sui pollicioni, su, viece, no dico viece, guarda te lo dicevo pure lui, viece, guarda ormai il viece del danno, internazionale, una bestia, una bestia allora ragazzi a parte le cazzate, innanzitutto buon primo aprile eh, che pescione d'aprile che vi ho fatto sono un po' forte e niente, allora a parte le cazzate dicevo, è il momento di parlare seriamente, questo è il vlog, deve essere pure bello conciso e con sta cazzata l'ho rubato non so sa quanto tempo allora vi volevo avvisare che nel mese di aprile io purtroppo sarò meno presente perché mi è venuto a trovare mio padre dalla Francia, questa è una cosa bella naturalmente e ciò naturalmente comporta che alcune serie della settimana non sarò in casa quindi non potrò né registrare né editare i video e a volte neanche metterli a pubblicare perché naturalmente se ci li ho su questo pc da dove sta lui è un po' difficile mettere a pubblicare i video quindi perciò tenterò di fare il possibile per mantenere il ritmo di un video ogni due giorni non chiedetemi di metterne uno al giorno come faccio a volte perché proprio in questo mese è impossibile cioè se faccio un video dietro l'altro tempo tre giorni e non mi vedete più per un mese quindi devo mantenere questo ritmo per non tenere il canale morto se riesco manterrò questo ritmo qua altrimenti è probabile che a volte salterò magari anche a tre giorni se tutto va bene fino al 20 del mese, fine del mese in cui dovrò fare questa cosa qui avanti e indietro purtroppo non garantisco il normale ritmo però tranquilli perché da fine mese in poi torna tutto come prima già che siamo qua vi volevo anche ricordare il contest che ho aperto in uno degli scorsi vlog il link ve lo metto in descrizione, metti caso che non l'hai visto è un contest dove ho messo in palio 4 premi l'obiettivo era semplicemente quello di mettere un gameplay 15, 20, 30 secondi, quello che vi pare registrando anche la vostra reazione una facecam insomma ragazzi una reazione a qualcosa che avete fatto volevo una ventina di questi per scegliere poi un vincitore io ve lo dico, lo tengo aperto per un altro mesetto così, fino al prossimo vlog diciamo dopo di che se nessuno partecipa è vero che siete pochi per carina mi rendo conto però insomma anche sparcire la voce non è che vi fa male insomma quel cazzo di titino usatelo ogni tanto e condivide e fate qualcosa cazzo date il segno di vita che magari domani vi sbiette sotto al cipresso mannaggia la miseria porcaccione più ignoranza raga, più ignoranza deve essere più attivi sembrate una massa dei morti e su, e dagli e fatevi sentire comunque dicevo se non dovesse essere che al prossimo vlog ancora nessuno ci si è coperto cambieremo contest perchè io quei cosi non li voglio buttare raga cioè l'ho pagati e voglio che qualcuno se li usi cioè, no? che senso c'ha? non li voglio io ve li sto da voi cioè se ve li devo regalare ditemelo ve li regalo poi altra cosa oggi la posta del danno non andrà in onda perchè sinceramente ho ricevuto diversi messaggi però se mi metto a fare pure quella famonotte quindi la sartamo al prossimo vlog quello che vi volevo chiedere piuttosto era questo volete scegliere voi una serie proporre una nuova serie o comunque un nuovo qualche nuovo video qualche nuovo gioco che volete che io vi mostri magari che voi non ci avete le palle di comprarvelo perchè diciamo ma è puzza di schifo famo io provare prima il danno che magari ci fa vedere se fa schifo veramente oppure se è se è un gioco ignorante e merita di essere scaricato ecco voi scrivete qua sotto o scrivetemi in privato come vi pare come fate sempre e io vedrò che cosa fa perchè in realtà mi avete già chiesto diversi giochi Bloodborne me l'avete chiesto non lo so a parte i miei amici che veramente me l'hanno chiesto un miliardo e mezzo e soprattutto uno però uno molto insistente che tra l'altro saluto bella Gekko però Bloodborne ragazzi è su PS4 e la mia PS4 in realtà dovrei accenderla e vedere se ancora funziona perchè so diversi mesi che sta lì a risucchi a salavor per proprio alla grande e poi mi avete chiesto in tanti pure Five Nights at Freddy's ragazzi io preferirei evitarlo quel gioco però se proprio continuate con sta insistenza vorrei dire che magari scaricherò prima il 3 e poi vediamo come va a finire però insomma se avete altre idee proponetele tranquillamente perchè io le prenderò tutte in considerazione infine ultima cosa ragazzi poi se salutiamo e mi sono rotto il cazzo scherzo vi siete rotti il cazzo che è meglio vi volevo ringraziare infinitamente tutti per il raggiungimento del traguardo dei 246 iscritti siamo oggi oggi 30 marzo 2015 siamo 246 iscrittoni che bestie che bestie ho iscrittoni al 246 sono una bestia e vi voglio dire questo a raggiungimento di quota 250 quindi proprio mancano sputazio quindi vedete di iscriverete di condivide perchè a raggiungimento di quota 250 verrà pubblicato il primo speciale 250 iscritti al canale del danno io non ve lo volevo dire ma apparirà uno dei tizi che avete tanto reclamato però non vi posso dire chi è non vi posso dire chi è lo posso solo dire che sbaglia spesso tasto e con questo ragazzi io vi saluto spero di sopravvivere a sto mese perchè veramente sarà una cosa tragica e se beccamo al prossimo video di cadaveri a canastare che roba ho delle guardie che roba che poi guarda tutti una pressa oh dai lo so che ci credevi veramente a un certo punto che mi cancellavo ma non è andata così dai dai su guarda ragazzo dai non t'abbia così pieda under culo